...dalla bravissima artista polignata Lara Cerbini che andrà a chi degli otto domani avrà il merito e la fortuna di vincerlo nelle tre tornate più la quarta che è riservata per i migliori tre della Quintanella che avrà luogo domani pomeriggio gli otto cavalieri sono per il rione Castelluccio l'esordiente Mattia Licitra di anni otto per il rione Forno Vecchio e alla quarta partecipazione Gabriele Filippucci di anni 12 per il rione Perticani e alla quinta partecipazione ma ha già vinto due volte nel 2012 e nel 2013 e Tommaso Piancatelli di anni 12 rilione Fossatone e alla quarta partecipazione Andrea Carducci di anni 11 rilione Foriporta e alla seconda partecipazione Giulio Filippucci di anni 9 per il rione Piazza e alla seconda partecipazione Leonardo Paoletti di anni 11 per il rione Popolare e alla terza partecipazione Filippo Mingaroni di anni 10 per il rione Castiglione un esordiente Salvatore Colella di anni 12 questi otto cavalieri domani si sfideranno per la conquista del Palio di Giostra 2014 dipinto dall'artista Lara Cervini di Forigno che andrà a chi tra loro sarà il migliore nelle tre tornate ascoltiamo la lettura del bando al placido e sole da chiudo che dona dolcezza alle uve e affida la terra in esausta il seme che è il pane dell'uomo si accende nei nostri rioni nobile gara infantile ed è Quintanella nomata per paliocartisti provetti dipingono con mano maestra si battono otto cagliardi ragazzi in giostra leale ed ogni rione si addorna di stemmi di fiamme e bandiere e belle taverne accoglienti gareggian in gastronomia le buone cucine di un tempo qui attendono esperte massaie e il vino giocondo ridonda dagli ampi boccali e nel cuore ciascuno di pace s'allegra domani sul campo di giostra lanciati inabile corsa gli otto ragazzi si imbattono per il nobile onore del palio e il bacio di dolce donzella su tutto però c'è l'auspicio che questa accordia di cuori a lungo rimanga e alimenti civismo, lavoro e virtù per più alte tensioni ideali grazie bravo grazie grazie bravo grazie ecco grazie Sì, è un poeta, è un poeta, è un poeta. 14, questa gara compotevano i costumi, per la ruota, per la presenza giudicata, ma questa è una serata, per il discorso, per il paese, per il luogo, per il luogo. Pagliari 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.